due risultati utili consecutivi hanno rilanciato il campionato della Turris che vuole provare ad accorciare le distanze dalla zona salvezza dalla parte opposta c'è invece un potenza che dopo l'arrivo di Marco Marchionni in panchina si è inceppato con appena tre punti conquistato nelle ultime cinque giornate al Liguori vuoto per questioni di ordine pubblico si gioca agli ordini del signor Madonia dopo una partenza incoraggiante del potenza la Turris prende subito il comando delle operazioni sul cross di Nicolao Saccani arriva in ritardo per una frazione di secondo all'altezza del secondo palo e però Dauria che prova a prendere per mano la squadra qui con l'imbucata per Iallo che si gira e non prende la porta per questioni di centimetri tridente offensivo per una Turris che deve rinunciare allo squalificato De Felice che non recupera maniero Dauria come una delle giocate più belle della partita controllo volante con il attacco poi perde l'attimo buono per calciare viene rimontato da Ristov che la sporca in calcio d'angolo all'ultimo momento è una Turris che però cresce col passare dei minuti ci prova anche Casarini uno dei tanti volti nuovi portati dal mercato invernale con il destro che si perde però sui cartelloni pubblicitari cammina di regia l'ex giocatore del Bologna arrivato dall'Avellino ancora Dauria a fare le prove generali del gol con una punizione dal limite che si spegne a centimetri dal palo alla sinistra di Alastra portiere della potenza molto più preoccupato e sollecitato del suo collega di reparto Marcone dalla parte opposta ancora Dauria a sfruttare l'ottimo lavoro di Nocerino ma divorarsi al minuto 59 un'altra delle più grandi pallegol costruite dalla formazione campana che sfiora anche il vantaggio con il quasi autogol di Ristov sulla punizione di Dauria che attraversa tutta l'area di rigore siamo una serata stregata sul tentativo da parte dell'attaccante della Tour Race il gol che potrebbe arrivare però negli ultimi minuti quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'arbitro vede una trattenuta a centro area cartellino giallo per Aziosmanovic e grandissima opportunità per Dauria che però si fa ipnotizzare da Lastra che battezza l'angolo giusto e mantiene il punteggio inalterato quando mancano 20 minuti al termine della partita sembrano tramontare qui le speranze di una Tour Race costantemente all'assalto di mettere le mani sui tre punti e tenere il passo del Foggia nel finale addirittura rischia la beffa la squadra di Menechini quando nel traffico Volpe trova lo spazio per calciare col sinistro impegnando Marcone in una parata in due tempi sono quattro minuti di recupero accordati dal direttore di gara nel secondo di questi sulla punizione del subentrato Giannone iallo la prolunga trovando la sfortunata deviazione di Ristov nella sua porta è il gol che vale tre punti fondamentali per la Tour Race tre punti festeggiati da tutti i componenti della panchina il centrale bulgaro al solo torto di trovarsi sulla traiettoria del colpo di testa di Iallo dopo cinque di recupero l'arbitro fischia tre volte sono tre punti fondamentali che mantengono tutto aperto per la Tour Race che accorcia proprio nei confronti della potenza senza vittoria da sei partite e ora in cresinerissima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti